Alessandro Alquati, direttore generale di Globecast Italia, questo appuntamento ovviamente è un momento anche per fare il punto su quello che sono le esigenze del mercato e per individuare i nuovi trend, volendo fare un consuntivo di questi giorni che cosa puoi raccontarci? Sicuramente come hai detto te cerchiamo di cogliere quelle che sono le indicazioni da parte del mercato e dei nostri clienti e possibilmente di anticipare le soluzioni che possiamo proporre, noi stiamo lavorando nei campi tradizionali di nostra attività su diverse linee, per quanto riguarda i servizi mobili SNG stiamo andando nella direzione di aggiungere alla componente di trasporto che è tradizionale dei nostri servizi, anche la parte di produzione su alcuni dei nostri mezzi che nel corso dei, già attualmente abbiamo già cominciato su uno e nei prossimi mesi trasformeremo aggiungendo capacità di produzione ovviamente in alta definizione per poter servire i nostri clienti ancora più a 360 gradi. A questo si lega lo sviluppo rispetto all'attività che abbiamo già svolto negli anni scorsi per l'utilizzo dell'ultra HD e quindi stiamo guardando alle soluzioni che il mercato ci offre in termini di apparati di codifiche, di decodifiche in HIVC, cominciamo a vedere un po' più di segnali da parte dei manufacturer e stiamo seguendo molto attentamente queste evoluzioni per poter implementarle e proporle ai nostri clienti. Dall'altro lato stiamo puntando sempre di più sull'espansione per quanto riguarda il mercato italiano del nostro teleporto e della nostra rete di connettività per poter servire sempre di più, sempre meglio, quindi con più capacità e maggiore qualità in termini di segnali HD che siamo in grado di consegnare simultaneamente ai nostri clienti attraverso il nostro teleporto che è in fase di espansione, stiamo continuando ad aggiungere servizi, molti clienti continuano ad darci fiducia rispetto a quello che noi siamo in grado di fare e quindi stiamo sviluppando quel settore. L'ultimo aspetto... Parliamo anche di delivery magari? Ci stavo arrivando, dal punto di vista del delivery noi siamo in fase di rinnovo di alcuni dei contratti più importanti che abbiamo con i broadcaster italiani, sia pubblici che privati, chiaramente non posso per ragioni di confidenzialità elaborare ancora di più, ma nelle prossime settimane credo che potremo annunciare la conclusione di alcuni importanti accordi che confermeranno il nostro ruolo di leadership sul mercato italiano. Per concludere, Ultra HD. Ultra HD, come sai, siamo stati un precursore insieme ad Eudelsat, insieme ad altri partner di questi eventi, stiamo discutendo proprio oggi, discutevamo di un'altra serie di eventi che nei prossimi mesi andremo a realizzare, poi c'è, come tu sai, anche l'anno santo straordinario che è stato dichiarato da Papa Francesco, anche lì ci muoveremo con il CTV e con Eudelsat per proporre, su alcuni eventi sicuramente, molto probabilmente per l'inaugurazione dell'anno santo, una produzione e una realizzazione di distribuzione in Ultra HD. Quindi continuiamo su questo trend. Alessandro Alquati per Globecast, Antonio Franco dall'ABC di Amsterdam per millecanali.it Alessandro Alquati per Globecast